Ciao a tutti ragazzi e ragazze Sono Dynamic e sono tornato su Youtube dopo tanto tempo E la cosa che volevo dirvi è scusate Ma purtroppo in queste ultime due settimane sono stato davvero molto impegnato Questo stronzo che mi uccide così a cazzo di cani Intanto iniziamo così malissimo Vabbè comunque Ho avuto dei problemi Con la scuola e Dovevo purtroppo andare avanti Cioè non posso ora lasciare la scuola e fare un video Perché prima la scuola Poi Le cazzate varie Anche se questo non è una cazzata varia È una cosa importante Seria questo stronzo morto Vabbè Comunque Parliamo un po' Vediamo questa stronza troia figlia di puttana Ok L'abbiamo ucciso Hairshot Vabbè Stavamo parlando Di Youtube Youtube cos'è Ma non facciamo stare Niente cazzate Comunque La cosa che volevo dirvi è Ghost cambia nome Ghost non è più Ghost Ghost è ora sconosciuto Perché cambia nome Per l'appunto Perché cambia nome Perché Ghost Non è un nome Non è un nome Fatto per bene Beh Se ora voi vi direte Che cazzo Cioè Fantasma Tradutto in italiano Ghost Significa Cioè Vi immaginate Un Youtuber Che si chiama Ghost Cioè Non ha senso Infatti Ora lo cambiamo Questa idea di mad È stato director Questo nome del cazzo È stato director Sottolineo Quindi director Se stai vedendo Questo video Ti dico questo Intanto Ci suicidiamo Perché Questa è una bella tecnica Per non far Per non dare un punto All'avversario Visto che avevamo Pochissima vita Dunque Stavo dicendo Stavo dicendo Volevo dire una cosa Su Ghost Che mi è piaciuto Ghost Se te stai vedendo Questo video Mi è piaciuto davvero tanto Il tuo Ultimo video Che hai fatto Quello lì Sdrogo di Cat Mario Cioè Anche se C'era un rumorino All'inizio Quello lì Anche se c'era quello Quindi Andava molto bene Cioè Mi è piaciuto il video Su come hai parlato E hai fatto le altre cazzate Cioè Anche se È anche nuovo Con noi Quindi Se Stai vedendo Questo video Metti un pollice Vabbè Non mettete tutti un pollice Dai Metti un pollice Anche se non ci sentiamo Tanto su Skype Visto che Anche loro hanno Ultimamente Dei Molti gravi Problemi con la scuola Perché Come Se voi non sapete Naturalmente non lo sapete Questo Happy Fingers Che mi fai Dal dietro Vabbè Come voi Non sapete La scuola In cui va Ghost E Rector È una delle scuole Migliori In tutta Italia E È anche una delle scuole Più difficili Purtroppo Purtroppo Vabbè Però Al fine Avranno un lavoro Non come me Che vive in Inghilterra Mi hanno I miei genitori Mi hanno rovinato La vita Cazzo Vabbè A parte questo Vi ringrazio Per le Grandissime Visualizzazioni Su Youtube Perché Su Ma che cazzo dico Cioè Su le grandissime Visualizzazioni Su Terra Rising Perché Hanno raggiunto Pd300 E Sono rimasto Stupefatto Perché Poi Il fatto è che Il video Cioè Andava bene Cioè andava bene Non è che è fatto male Andava bene Abbastanza Però La cosa Che Di solito Io non vedo Sono 20 minuti di review Che io assolutamente Non vedo Però L'ultimo L'ultimo video Che ha fatto Rector Appunto Review Review Di Terra Non mi ricordo Se hai fatto Un altro video Non so Quindi Se hai fatto Un altro video L'ultimo video Non è stato quello Mi scuso Vabbè Comunque Per l'appunto Hanno raggiunto Più di 300 visual Ci sono anche Commenti Dall'estero Cioè in inglese Che Non ci aspettavamo E Un'altra cosa Che volevo Volevo dirvi È Un applauso Per Ghost Ecco Un applauso Per Ghost E Niente Le prossime cose Che io farò Io continuerò A fare Gameplay su Warface Una cosa Aggiornata Di Warface Che È un buono È bene dirlo Sto stronzo Come cazzo Ha fatto A beccarmi Cock Che significherebbe Cazzo In inglese Anche se Ha un altro spelling Cioè Con diverse parole Però la pronuncio Uguale Vabbè Una cosa Che volevo dirvi Su Warface E L'hanno Aggiornato Vi chiederete Perché non ho più Fatto video su Warface Il perché È semplice Warface Lo avevano Cioè C'era stato Un piccolo bug Che non Che è capitato A qualcuno Come a me Infatti Questo bug Riguarda Che appena Faceva Il caricamento All'inizio Del gioco Dopo Si chiedeva In che senso Cioè Dopo il caricamento Invece di aprire La pagina iniziale Inizio gioco Veniva Si chiudeva la pagina E tornava Di nuovo All'home page Che Cioè La pagina iniziale Visto che è un browser game Infatti Da browser game Hanno creato Il launcher beta Un vero e proprio Lancer Però in beta Comunque È uscito il launcher E ora Funziona alla grande Anche se Non hanno Aggiornato un cazzo Assolutamente Niente nuove armi Niente skin Delle armi Niente Vestiti nuovi Niente Gloramenti di grafica Perché Questa È la grafica Al minimo Perché Purtroppo Cioè Di solito Il video Visto che li metto In 1080p Mi vengono Se li metto Ad ultra Mi vengono A Più di 2 giga Se avete pensare Sto stronzo È una stronza O una stronza Però Spara Con sto fucile O Quella cosa lì Cazzo È troppo potente E ora Vaffanculo Mi ha rubato la kill Comunque Stavo Stavo dicendo Che Hanno creato Il launcher beta Perché non hanno aggiornato Un cazzo Addirittura Non hanno Nemmeno aggiornato L'assist Perché La bruttissima cosa Di questo gioco È proprio L'assist Qua non ti danno Nessun assist Se uno ti viene All'ultimo secondo E Fa Fa un colpo E lo uccide Lui si prende la kill Dovete pensare Infatti Questa è l'unica cosa Che non mi piace Però Non preoccupatevi Mi comprerò Battlefield 4 Appena me lo compro Battlefield 4 Dalla deluxe edition Tanto per fammi figo Perché La deluxe edition Costa 50 euro Prima ero in offerta Ma non l'ho comprato Perché non avevo Spiccioli Spiccioli Tra virgolette Naturalmente Costa 50 pound In verità Non 50 euro 50 pound E Una cosa Cioè Appena lo comprerò Farò un video subito Perché non posso aspettare Farò un video subito Su Battlefield 4 E manderò a fanculo Warface Perché Se posso avere Uno dei migliori giochi FPS Per il pc Perché giocare a questo gioco De merda online Però Non preoccupatevi Non preoccupatevi Se escono nuovi giochi Simili a Warface Ecco La dinamite del cazzo Vabbè Se Escono Altri giochi Simili a FPS Free to play Vi Terrò in aggiornamento Oh Questa è l'arma Che stavo usando Mi sono preso l'arma Che stavo usando Quella troia Che mi uccide sempre Vediamo un po' com'è Aspettate Un'arma di merda eh Ma vaffanculo Vabbè Lasciamo stare Inizierò subito Con Battlefield 4 E Con China Rising O qualcosa del genere Vabbè Una delle due Questo stronzo L'ho fatto pure Headshot Mi sa che c'era un altro Infatti Ce n'era un altro E' venuto Ecco Con la stronza Mi è venuto Di dietro Vabbè E Un'altra cosa Sì Penso Innanzitutto Ringrazio per 122 iscritti Al 123esimo Facciamo un ringraziamento E forse anche un giveaway Quindi Dita Qualche vostro amico Di scriversi Tanto Per farlo Il giveaway Penso Può essere Può anche non essere Perché Non gio così Non sono un riccone Del cazzo Anche perché Cioè Non sono del cazzo Però Anche perché Ma vaffanculo Basta Cioè Se Avrò qualche soldo in più Da spendere Invece di Comprare Qualcos'altro Anche il giveaway Nel canale Forse Per 123 iscritti 123 perché Vi chiederete Non 100 Non 150 123 perché È come La partenza 1 2 3 via Comunque Ringrazio anche Per 122 iscritti Che è un grandissimo Traguardo Per l'appunto E Per l'appunto Cos'è che volevo dire Dopo Mi sono scordato Ah ecco Preso Scusate Scusate Per I 10 secondi Allora La cosa Un'altra cosa Che volevo dirvi Prima di Finire il video È Che Sarebbe Sui gameplay Di Warface Userò sempre Quasi sempre Lo sniper Perché Lo sniper È una classe Che mi è piaciuto E mi piace E niente Sono venuto quinto Cazzo Non me l'aspettavo E abbiamo anche perso Comunque ciao a tutti ragazzi Alla prossima Mettete un mi piace Se vi è piaciuto il video Mettete un non mi piace E Se Iscrivetevi E lasciate un commento Mi raccomando Alla prossima Alla prossima Alla prossima